Napoleon è veramente uno dei migliori film di Ridley Scott? Scopriamolo insieme! Salve ragazzi e bentornati su Ciaccazione! Devo dire che ho visto in anteprima, grazie agli amici di Nerpool, Napoleon, diretto da Ridley Scott. Innanzitutto non è un film molto dinamico, in quanto non racconta soltanto gli scontri e le battaglie epiche del condottiero francese, ma si concentra soprattutto sull'uomo dietro la maschera, dietro il condottiero, un uomo succube molto spesso da Giuseppina e anche da sua madre, in quanto sono le donne che comandano in un certo senso Napoleone Bonaparte. Eh sì, perché non è soltanto incentrato sulle grandi conquiste, le grandi battaglie di Napoleone, ma soprattutto sulla sua vita privata e si concentra sugli eventi che hanno un po' raccontato e accompagnato le sue conquiste. Come detto recentemente da Ridley Scott riguardo i commenti delle imprecisioni storiche presenti nel film, ha commentato non proprio contento del fatto che le persone indicano i suoi lavori come non precisamente accurati, storicamente parlando. Infatti proprio il regista ha detto fatevi i bip vostri. Obiettivamente Ridley Scott si è preso anche delle libertà maggiori nel gradiatore, come sappiamo, perché quel film è storicamente inaccurato, ma in questo Napoleone ci sono molte scene prese precisamente da momenti storici importanti che hanno segnato la vita di Napoleone Bonaparte come l'incoronazione o la rivolta plagata dopo la rivoluzione francese. Insomma, un film che dividerà soprattutto per quanto riguarda quelle che sono le rappresentazioni storiche principali. Infatti c'è un taglio importante soprattutto nella parte centrale del film che toglie un pezzo importante di quello che è il personaggio di Napoleone e quello che poi sarebbe diventato per la Francia e per la conquista dell'impero francese. Anche se voglio attendere l'edizione integrale di ben quattro ore, questo film dura circa due ore e quaranta, trentotto minuti, che arriverà per fine mese su Apple TV Plus e non vedo l'ora sinceramente perché Apple sta investendo su prodotti originali e in poco più di un mese e mezzo abbiamo Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Napoleon Ridley Scott. Ragazzi, se questo non è un motivo per abbonarsi a Apple TV, insomma, ditemi voi, io aspetto con ansia per parlare, diciamo, un po' più del film che sono evidenti gli enormi tagli che Ridley Scott ha dovuto fare per cercare di adattarsi a quelli che sono i tempi poi cinematografici di una pellicola perché se è vero che Napoleone buona parte ha creato un impero grandioso è anche vero che in sole due ore e mezza è molto difficile la rappresentazione. È un film sicuramente non privo di difetti in quanto, soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Napoleone Bonaparte, molti l'hanno indicato come patetico e troppo succube, come detto, di Giuseppina. Ma, come sappiamo, storicamente noi non eravamo lì e tante cose sono state raccontate anche grazie alle lettere scritte tra i due innamorati. Un Napoleone messo in scena in maniera grandiosa da Joaquin Phoenix che dopo bua paura ha realizzato questa grande interpretazione che secondo me merita almeno la candidatura all'Oscar insieme a quelle di DiCaprio e di Cillian Murphy per Oppenheimer. La grandiosa interpretazione di Joaquin Phoenix però non è stata l'unica. Infatti la bellissima Giuseppina interpretata da Vanessa Kirby è stata qualcosa di straordinario, magnetica e semplicemente straordinaria. Ha messo in scena la sua Giuseppina in maniera grandiosa facendo intravedere quello che Giuseppina era per Napoleone. Una donna importante che in qualche modo aveva sotto di sé l'uomo più importante del mondo. Un film incorniciato da queste scenografie grandiose dalle piramidi del deserto agli spazi gelati della Russia passando per le diverse battaglie messe in scena in maniera incredibile. Ridley Scott ancora una volta ci sorprende e ci regala qualcosa di incredibile. È evidente che il film dividerà molti perché non ha un ritmo dinamico e anzi appunto soffermandosi moltissimo su quello che era il personaggio di Napoleone e l'uomo che rappresenta è evidente come questo ritratto intimo della personalità e dell'imperatore francese potrebbe un po' annoiare alcuni ed esaltare molti. Io sono al centro di queste due divisioni perché ho trovato l'inizio del film un po' macchinoso poi però prende immediatamente il via raccontandoci quello che il grande conquistatore francese ha fatto e ha segnato la storia della Francia per sempre. Come detto aspetto assolutamente la visione per quanto riguarda il film integrale Napoleon ha evidenti problemi di ritmo perché soprattutto, come detto, nella parte centrale si sente tantissimo il taglio effettuato per evitare troppe lungaggini i ritmi cinematografici purtroppo sono quelli che necessitano di quel tempo perché come sappiamo i film di Marti Scorsese per esempio Killers of the Flower Moon che dura 3 ore e 30 non sono sempre di facile visione perché è difficile ritagliarsi tutto quel tempo per andare al cinema e per questo Ridley Scott ha evitato di far pubblicare la sua edizione integrale di 4 ore che però andrà entro alla fine dell'anno su Apple TV e per questo non vedo l'ora in quanto i tagli si sentono ma sono veramente tanti nonostante questo i momenti salienti si percepiscono tantissimo la battaglia di Austerlitz quella di Waterloo sono realizzate in maniera fantastica sono probabilmente le due rappresentazioni fatte nel miglior modo possibile in quanto Ridley Scott si è affidato a esperti del settore poi ne parleremo in un altro video a parte per realizzare queste battaglie particolari e cercare di rendere storicamente più accurato possibile il film anche se in molti parti ha un po' romanzato la storia di Napoleone ma è evidente che ci ha riuscito alla perfezione perché io ho amato Napoleon e per quanto mi riguarda è probabilmente uno dei suoi migliori film soprattutto degli ultimi anni ragazzi ho cercato di esprimere quello che pensavo per quanto riguardava Napoleon perché è difficile parlarne con così poco tempo e senza dilungarmi troppo soprattutto insomma io vi rimando ai nostri canali social e alle nostre news e agli altri video che potete trovare sul canale e vi ricordo di linkare di cliccare qui sotto in descrizione per seguirci su Instagram Facebook e YouTube ancora una volta vi ringrazio per avermi seguito fin qui so che è stata una maratona in quanto questo video probabilmente verrà più lungo del solito ma ci tenevo a parlarne perché Napoleon secondo me è tra i primi 3-4 film di questi ultimi 5 anni e Ridley Scott è tornato a farci sognare anche se io sono di parte perché amo Napoleone storicamente parlando ed è uno dei personaggi che adoro nella storia e ancora una volta vi ringrazio da Valerio Perrone e questa è una questione buona giornata è una questione